Inter, scintille tra Onana in allenamento durante il Torello. Cose già viste, in casa Inter, quest'anno. L'allenamento della vigilia del quarto di finale di Champions League contro il Benfica ha infatti vissuto un episodio particolare. Con due giocatori protagonisti di un piccolo screzzo durante il Torello, Andre Onana e Marcello Brozovic. Nel video del riscaldamento della seduta il portiere insegue il pallone in mezzo al cerchio formato dai compagni e... Nel tentativo di rubarlo al croato, finisce per contrastarlo troppo duramente. Il regista reagisce male all'intervento e i due finiscono quasi testa a testa, tanto che due compagni di squadra Danilo D'Ambrosio e Romelu Lukaku si trovano costretti a dividerli fisicamente per seddare gli animi. Con la situazione che rientra dopo pochi secondi in un clima di apparente normalità. Non è la prima volta che i minuti di allenamento aperto alle televisioni svelano momenti tesi nel gruppo di Simone Inzaghi. Dal duro contrasto tra Lukaku e Nicolo Barella alla ramanzina di un membro dello staff nei confronti dello stesso Brozovic.